Sì, grazie Presidente. Solo per ricordare a Laura e alla cittadinanza che il primo ordine del giorno che abbiamo appena votato, abbiamo votato poco fa, era esattamente sullo stesso argomento, per cui c'è, come dire, comunione di intenti rispetto a questa visione della città, del poter realizzare una stazione vicino al santuario del Divino Amore. Pertanto il voto favorevole della maggioranza è scontato, visto che ne abbiamo votato uno poco fa, esattamente sullo stesso argomento. Grazie.